Veniamo allo sport, Presidente. Un anno difficile, ma anche pieno di soddisfazione. È stato un anno difficile perché proprio il tessuto delle società sportive, nel momento della pandemia, fondate sul volontariato, su tanta passione, su quello che spesso sono gli eventi che si organizzano intorno ai sodalizi sportivi e che portano le risorse per poter consentire a questo di creare attività sportiva di massa, hanno avuto con la pandemia una grave crisi, spesso lunghi periodi di stop. Ma ci siamo ripresi, noi le abbiamo sostenute, anche le società sportive, con, se vogliamo, simbolici, ma insomma indicativi ristori per poter andare avanti e soprattutto per la prima volta con una legge che ha dato nell'impiantistica sportiva dei nostri comuni più di 10 milioni di euro. Ne sono stati beneficiari 59 dei 273 comuni della Toscana. Il prossimo anno andremo ancora oltre. Incominceremo alla realizzazione che per me saranno tre impianti Pegaso, cioè tre impianti della regione. La prima sarà una grande piscina. Devo dire che penso a San Bartolo a Cintoia, come penso poi all'impianto Pegaso a Ponte Bugiamnese in provincia di Pistoia, così come poi penso a un campo scuola per l'atletica che con una visione che potremo raccogliere potrà arricchire il tessuto di impianti sportivi non solo comunali ma anche regionali. Per ora comunque nel 2021 10 milioni per contributi fino a 400 mila euro ai comuni che hanno necessità di ristrutturare o adeguare propri impianti sportivi. Nel 2022 i 10 milioni dovrebbero arrivare addirittura a 12. Penso a uno sport che poi ci ha dato inaspettatamente ma grandi soddisfazioni. Pensare alle 10 medaglie d'oro alle Olimpiadi e fra queste 10 medaglie d'oro a cui aggiungo quelle del loro palo olimpico voglio citare Ambra Sabatini, la ragazza di Porterco, del comune di Argentario che ha vinto i 100 metri proprio nelle Paralimpiadi e il suo gesto umano di ragazza colpita da un incidente dall'amputazione della gamba ma che con le protesi già nel letto in cui dopo il grave fatto gli era accaduto guardando con sorriso l'interlocutore diceva voglio vincere le Paralimpiadi. Aveva 17 anni ai tempi dell'incidente, ne ha avuti 19 nel momento in cui è allargato il cuore di tutta Italia. E se noi nelle 10 medaglie d'oro alle Olimpiadi ritroviamo un'Italia vincente come lo abbiamo trovato poi in tante altre discipline per un'incredibile mole di successi che abbiamo avuto quest'anno quello chiaramente da tutti più partecipato e condiviso per la diffusione del calcio è stata addirittura la vittoria degli europei di calcio che non avveniva nel 1968 la Toscana si propone come regione di sport proprio perché crediamo che l'attività sportiva sia di grande beneficio proprio a ciascuno di noi e quindi nella diffusione di massa mens san incorpore sano è l'antico adagio dei latini che condividiamo e nella nostra politica cerchiamo di strutturare. Grazie